I privati devono pulire le aree incolte e guai a trasgredire l'ordinanza, la numero 45 emessa dal sindaco di Agrigento Franco Micichè. A questo punto sono più che legittime le considerazioni degli agrigentini di fronte al degrado urbano, alle sterpaglie ed erbacce che invadono i quartieri che rendono penoso il territorio. Se i privati vengono insomma richiamati all'ordine, il Comune dovrebbe essere il primo a dare l'esempio di correttezza senza disattendere invece le istanze dei cittadini e senza emanare ordinanze che hanno il sapore della pure e semplice provocazione. Sono le persone affette da allergie che reclamano un tantino di attenzione sul loro stato di salute, invece niente e nessuna risposta e ne abbiamo già parlato nei nostri notiziari. La sordità del Comune sotto questo aspetto è diventata cronica. La proposta del responsabile del settore del Comune fatta propria dal sindaco di Agrigento parla di spazi privati, stato di abbandono e poco curati con la conseguente crescita di erba e rami. L'inguria si legge ancora nell'ordinanza sindacale, sminuisce il decoro della città e qui l'ordinanza del sindaco Micichè diventa proprio comica degna della satira, visto che il discorso il Comune dovrebbe rivolgerlo anzitutto a se stesso e nel nostro caso al competente assessore.